La taverna è a Taranto in via Lombardia 2. 40 anni di esperienza e di professionalità. Salumi, formaggi, gastronomia da sporto anche con consegna a domicilio. Primi piatti a 3 euro, secondi a 3 euro, contorni a 2,50 euro. Solo prodotti freschi, non congelati, anche di nostra produzione. Cucina di prodotti locali e pesce locale. Usiamo olio extravergine di oliva e pasta fresca. Vasto assortimento di legumi, cereali e semi. Prodotti tipici, si confezionano anche i cestini. Ecco le nostre super offerte. Formaggio Rodez 9,90 euro al chilo, acquistando almeno mezza forma. Grana Padano 9,50 euro al chilo. 3 bottiglie di olio d'oliva De Santis 10 euro. Tonno Romero, 3 confezioni da 70 grammi luna 1,79 euro. Un fuscello di ricotta, 1 euro. Speck, 1 euro letto. Caciocavallo, 5,90 euro al chilo, se si acquista l'intera forma. Salame ungherese, 1 euro letto. La taverna vi aspetta! Risparmiare con qualità! Grazie a tutti!